La nostra manifestazione in merito alla giornata internazionale della festa della donna si chiama Storie e saperi al femminile, un evento molto concentrato che inizierà con un gemellaggio tra commissioni pari opportunità di due diverse province, l'inaugurazione dell'opera Scarpetta Rossa che sarà firmata appunto dalle donne presenti ma anche da tutte le istituzioni. Sarà presente noi l'attrice Barbara Enrici, per intendersi l'attrice che ha vinto il Davide di Donatello per l'interpretazione di Selvaggia nel ciclone con il suo filmato Variabili femminili Storie di donne di tre generazioni diverse. Ci sarà poi una seconda parte in cui le attrici di questo filmato appunto ci racconteranno la loro storia, la stessa Barbara Enrici ci parlerà della sua vita di attrice e regista e poi ascolteremo le storie di donne comuni e andremo appunto a toccare tutte le tematiche più calde della quotidianità, quindi dalla neat generation, ai problemi di una madre, ai problemi di una nonna alla madre che ha più figli, alla ragazza disoccupata, quindi tante tematiche in cui le istituzioni rimarranno solo in ascolto.